Bene, riprendiamo il campionato dopo le vacanze di Pasqua, dopo lo stop di Pasqua, dopo lo stop forzato abbiamo ripreso due settimane fa contro il Peschiera, si sono viste tutte le lacune dettate comunque dal fatto che due mesi che alcune ragazze non si allenavano, devo dire che fortunatamente abbiamo avuto questo break pasquale per riuscire a lavorare per due settimane con le ragazze che man mano rientravano, quindi adesso siamo più o meno al completo, rientrava forse oggi, rientra anche Giulia Beschi, quindi diciamo che il roster della Serie B è finalmente al completo, non possiamo chiaramente pretendere che siamo al top come quando si è interrotto il tutto, però sicuramente rispetto a due settimane fa vedo le ragazze molto meglio. Il test di domenica sarà molto importante perché inizierà poi questo tour di force dove noi praticamente giocheremo ogni tre giorni per tutto il mese di aprile e quindi non sarà facile dal non giocare mai al giocare troppo e vediamo quello che riusciamo a fare, non è che possiamo pretendere chissà che cosa e quindi sono curioso di capire se poi al di là di tutto siamo stati bravi nel riuscire a sopportare questo carico di lavoro.